è in un ristorante e legge il menù. Buonasera. Buonasera, io ho una domanda. Io sono vegetariano. C'è del cibo vegetariano? Sì, abbiamo delle bistecche molto buone. Le bistecche sono carne. Io non mangio carne. Ah, vero. Mi dispiace. Il pollo è molto buono. Il pollo è carne. Io non voglio carne. Ah, ho capito. C'è l'insalata. Perfetto. Cosa c'è nell'insalata? Carote, pomodori, pesce. Io non mangio pesce. Io sono vegetariano. Abbiamo delle patate. Ok. Vorrei delle patate, per favore. Perfetto, delle patate. E un hamburger? No, io sono vegetariano. Comodori. Comodori. Io non mangio. Domanda. Carne. Carne. Carne.